Partiamoci sulla griglia di partenza con le telecamere che ci mostrano i piloti mentre cercano la concentrazione prima dell'inizio di questa gara. Tra qualche istante inizierà il Gran Premio del Qatar qui a Doha e i piloti sono già pronti a fiondarsi tra le curve illuminate a giorno. Grazie a tutti. 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 In attesa dei festeggiamenti del podio guardiamo insieme i risultati finali della classe MotoGP. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.